Il penultimo dei sei paragrafi della seconda lettera morale di Seneca a Lucilio è il più breve dell'intera lettera. Tuttavia contiene almeno un paio di spunti molto interessanti. Vediamo oggi quali siano. Oc ipse quoque faccio. Ex pluribus que legi aliquid at prendo. Qui Seneca parla di se stesso e si esprime in prima persona con Lucilio e dice così Quoque ipse. Anche io, persino io, faccio oc. Faccio così. Mi comporto in questo modo. Ex pluribus que legi aliquid at prendo. Qui una subordinata relativa que legi. Che cosa fa Seneca? Dice così. Ad prendo aliquid, apprendo, imparo qualcosa, ex pluribus que legi. Dai molti autori, o se preferite dai molti libri, che ho letto. Dunque Seneca ammette di non essere fedelissimo al proprio stesso insegnamento. Lui stesso di tanto in tanto si diverte a curiosare anche in altri libri che non siano quelli per lui fondamentali. E per fortuna fa così. Perché al loro interno trova qualcosa di buono. Vediamo che cosa. Odierno, hoc est, quod apud epicurum nanctus sum, soleo enim et in aliena castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator. Onesta inquit res, est leta paupertas. Quest'oggi, dice Seneca, sono andato a riprendermi le opere di Epicuro. E ho trovato qualcosa di molto interessante, una massima che voglio proporre all'ucilio e ai lettori. Vediamo quale. Questo è ciò che quest'oggi ho trovato apud epicurum, letteralmente presso Epicuro, cioè all'interno di un libro di Epicuro. E poi un inciso fra parentesi. Soleo enim et in aliena castra transire. Inim, infatti, sono solito, soleo, fare che cosa? Transire in aliena castra. Passare all'interno dell'accampamento nemico, esplorare l'accampamento nemico, e poi una precisazione. Non tamquam transfuga. Non come un fuggitivo, non come un disertore, non come uno che abbia tradito il proprio esercito, questo no. Sed tamquam explorator. Ma come un'avanguardia, ma come un esploratore. Perché fa questa affermazione Seneca? Perché, come sapete, Seneca di fondo si ispira soprattutto alla filosofia stoica, alla scuola filosofica dello stoicismo. Ma con alcune divagazioni, ad esempio, nell'ambito dell'epicureismo, come in questo caso. E dunque si paragona non certo a un fuggitivo, non certo a un traditore che abbandona il proprio generale, ma a un soldato che si reca di nascosto in maniera furtiva nell'accampamento nemico per scoprire qualche segreto interessante del nemico stesso, in questo caso il nemico, metaforicamente il filosofo Epicuro. E vediamo che cosa trova. Trova questa semplice massima interessante e la propone Lucilio. Sono parole di Epicuro che inquit dice, afferma Cioè, è una res onesta, è una cosa onesta, che cosa? Una leta paupertas, una povertà, sembra quasi uno simoro, un paradosso, una povertà leta, dice il testo latino. Potremmo tradurlo con serena, felice, soddisfatta di se stessa. Ciò che, lo spiegherà poi meglio dopo Seneca nel paragrafo successivo, ci fa star male, non è tanto la povertà in sé, quanto il desiderio di stare meglio, il desiderio di diventare ricchi. Se una persona è povera, ma ha le cose sufficienti e necessarie per vivere, può essere tranquillamente felice. L'essenziale è che non cada preda di desideri inuti, superflui. Dunque, è una cosa del tutto onesta, vivere in una povertà, lieta di se stessa, soddisfatta e dunque felice. Maggiori precisazioni, come ho detto già prima, ci saranno poi nel sesto ed ultimo paragrafo di questa lettera, paragrafo che commenteremo nell'ultimo video della serie fra qualche giorno. Grazie per l'attenzione, se volete lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. A presto, al prossimo video. Grazie. Grazie.